Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa del mattino. Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi. Oggi è lunedì 27 aprile 2015. Allora cominciamo subito con i giornali. Prima il santo del giorno, la chiesa oggi ricorda Santa Zita, il sole sotto le 6 e 7 tramonterà alle 20 e 05. Il cielo in questo momento è grigio, oggi avremo una giornata variabile con possibilità di pioggia. Sono 16 gradi, quasi 17 gradi a quest'ora, alle 7 e 30 del mattino. Avremo cielo nuvoloso, molto nuvoloso in particolare sui settori interni con precipitazioni diffuse e sui settori interni dove potranno risultare più intense. Sparse invece le precipitazioni altrove, temperature senza variazione di rilievo. I venti saranno moderati, di vento moderato o addirittura vento teso, il mare sarà mosso. Le precipitazioni durante la giornata di martedì saranno probabilmente diffuse ed intense, quelle di domani seguite da un miglioramento solo temporaneo. Due notizie, la prima che riguarda i marchigiani, marchigiani dispersi in Nepal dove c'è stato questo fortissimo terremoto che ha causato più di 2500 morti, dall'altro invece una notizia di tutt'altro genere, una notizia che riguarda lo sport con la vittoria del Fano sulla visse. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico. Marchigiani dispersi in Nepal sono uno speleologo e un medico dell'Ancisi che erano nel villaggio di Langtang, sepolto da una valanga. Queste sono le loro fotografie, guardate invece di queste immagini, purtroppo in queste ultime ore, in questi giorni, ne abbiamo viste tantissime di località completamente distrutte. Ansia, dicevo, ansia per quattro speleologi, italiani del soccorso alpino che si trovano in Nepal, travolto da terre detriti a causa della raffica di scosse sismiche che hanno devastato la regione centro-occidentale nepalese e che da sabato non danno più notizie di sé. Sono Giuseppe Pino Antonini, 53 anni, di Ancona, Gigliola Mancinelli, anchele di Ancona, medico anestesista, Oscar Piazza del soccorso alpino del Trentino Alto Adice e Giovanni Nanni Pizzorni, 52 anni, genovese, esperto torrentista. L'ultimo contatto sabato, poco prima della scossa di terremoto che ha devastato il Nepal con il fratello di Antonini, Roberto, che aveva sentito lo speleologo dopo la scossa di terremoto. Poi più nulla, Antonini è specializzato in operazioni di grotta e forra. Dunque, l'ultima telefonata, come dicevamo, al fratello, ma ci sono anche dei fanesi, ci sono anche dei senigalliesi. Per loro, per fortuna, sono arrivate le buone notizie della giornata di ieri. Ore di ansia a Fano, lo vedremo poi dentro nelle pagine interne di questi quotidiani. Siamo vivi, dicono i due fanesi, sollievo per Pietro e Gianluca, mentre rientreranno venerdì a Senigallia l'Avvocato e le due turiste al sicuro nella giungla. Allora, andiamo a leggere le altre pagine. Fanesi in Nepal, niente paura, gli alpinisti, siamo sul messaggero, Marcucci e Cantiani rassicurano i familiari, erano ai piedi dell'Everest. Allora, vediamo le fotografie dei due fanesi. Ore di ansia, poi la telefonata, siamo vivi, siamo sul Corriere Adriatico. Gianluca Cantiani e Pietro Marcucci sono riusciti a mettersi in contatto con la famiglia. È stata ovviamente un'intera giornata di apprensione e paura che però si è conclusa a lieto fine. Stanno bene i due alpinisti fanesi partiti per una scalata dell'Everest in concomitanza con il terribile terremoto di magnitudo 7.9 che ha devastato nei giorni scorsi il Nepal. Per un'intera giornata i familiari degli escursionisti fanesi non hanno avuto alcuna notizia cercando instancabilmente di mettersi in contatto con loro. Sono partiti il 16 di aprile per scalare l'Everest. Il viaggio sarebbe dovuto durare 20 giorni. L'esplosione di gioia anche sulle bacheche di Facebook. Sotto invece l'avvocato e le due turiste al sicuro nella giungla. Franco Tardella dice il rientro è previsto per venerdì o sabato. Tiziana Cimarelli sotto shock racconta ci piovevano addosso massi di 30 kg. Il gruppetto ora si trova in una zona tranquilla e proseguirà il viaggio con una guida locale. Ancora su questo argomento, su questa tragedia del Nepal il messaggero pubblica lo stesso una fotografia dei due fanesi Pietro Marcucci. Pietro è questo ragazzo qua mentre Gianluca Cantiani e l'amico a fianco con la sua mountain bike dopo ore di ansia sono riusciti a mettersi in contatto con i familiari e a rassicurarli. Si trovano ai piedi dell'Everest in una zona dove il devastante terremoto è stato avvertito a malapena. Infatti è il resto del Carlino che dice, giocando un po' e scherzando un po' con il titolo per quanto c'è poco da scherzare, ma insomma, gli alpinisti fanesi in Nepal, il terremoto sentito soltanto alla radio, Marcucci e Cantiani non erano ancora arrivati sull'Everest. Poi vedete qua invece di fianco un'altra notizia che abbiamo pubblicato nei social network e sul sito nelle precedenti ore. Matteo Salvini, il leader della Lega Nord, che oggi sarà anche a Fano, farà un tour nelle Marche, inizierà a Fano alle 10, dove sarà al Pinobar. Si temono contestazioni disposte a misure di sicurezza. Fano sarà per Salvini la prima tappa di un intero tour, come dicevo, nelle Marche, tutto concentrato nella giornata odierna. Al Pinobar Salvini terrà una conferenza stampa dove parlerà tra l'altro dell'alleanza con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Francesco Acquaroli. Poi parlerà anche di pesca, tema su cui si è battuto anche come europarlamentare. Dopo Fano Salvini si trasferirà ad Ancona, dove è atteso alle 11.30 in Piazza Roma per una passeggiata e poi alle 14.30, alle 14 sarà a Porto Recanati. Poi sulla pagina di Fano del resto del Carino si parla, così come negli altri giornali della Fondazione Cassa di Risparmio, ecco i nuovi eletti, nominati sette consiglieri e otto nuovi soci, tutti i nomi che potrete leggere appunto sul giornale di questa mattina. Ancora dalla pagina di Pesaro del resto del Carino, il sabotaggio della piscina del Parco della Pace. A destra vedete le fotografie dei due tubi rotti ad arte e poi fatte riparare dalla società. Valvola spaccata, piscina allagata, atto mirato, incursione notturna, evitando l'allarme, uffici, spogliatoi, reception, invasi dall'acqua. Sebastianelli dice che è un danneggiamento che abbiamo denunciato subito ai carabinieri, ma al di là del danno ci chiediamo a che cosa è servito tutto questo, mentre dalla piscina alla palestra al Palasnupi, sempre a Pesaro, dove dopo la partita sono state bruciate le maglie della squadra ospite. Un gesto che è una vera follia. E prima di parlare del calcio, ancora cronaca, il ciclista investito non ce l'ha fatta, fatale l'inversione lungo la provinciale, è travolto da una BMW che gli stava sopraggiungendo alle spalle, è morto nella notte. Giovanni Urbinelli, che vedete in questa immagine, il tratto invece di strada dove è accaduto l'incidente, il tratto della tragedia, purtroppo non ce l'ha fatta, è morto poco dopo, poche ore dopo il ricovero. Giovanni Urbinelli di 73 anni, celebre una figlia, pensionato residente a Villa Fastigi, troppo grave il trauma cranico per superarlo. Nella notte il suo cuore si è fermato per sempre. È l'uomo investito l'altra sera, intorno a 19.30, mentre andava in bicicletta. Inutile il trasferimento da Ancona con l'elicottero, è stato appunto deceduto poche ore dopo. Mentre di un altro incidente, racconta il Carlino questa mattina, con le condizioni fisiche di Massimiliano che muove le gambe, lo dice il papà, il padre che è andato a trovarlo in ospedale e scrive su Facebook, sono stato a trovare mio figlio da 21 giorni in coma, ho notato che le gambe le muove poco, ma le muove e questo penso sia un buon segno. Massimiliano è lugli, è lo scuterista di 42 anni, caduto sull'asfalto di via Montefeltro il 30 marzo scorso. Allora, di questo naturalmente ne parlano anche i quotidiani. Da Fossombrone invece sul Corriere Adriatico, un altro incidente, cui è divasto vittima Adriano Bruscoli, 51 anni, gestore, noto gestore, insieme ai fratelli dei supermercati alimentari ammonimi, viaggiava in sella al ciclomotore lungo la Flaminia, indossando il casco si è trovato la strada sbarrata da una Fiat Punto condotta da un 76enne del posto, gli è andata addosso e con il casco ha sfondato il cristallo anteriore. L'imprenditore se la cava con 10 giorni di proniosi, providenziale l'uso del casco, scrive il quotidiano di Ancora. Ancora dal messaggero, la notizia è che stanno arrivando nuovi migranti nella nostra provincia e dunque servono vestiti e scarpe, non ci sono ancora i numeri, non si sa quanti saranno, ma nei primi giorni della settimana forze di polizia e associazioni si aspettano le prime decine di migranti da collocare nel territorio provinciale. Del resto la riunione in prefettura urgente dei giorni scorsi è servita proprio per fare il punto sul tema dell'accoglienza e della possibilità di inserire i giovani migranti in programmi di lavori socialmente utili oppure in volontariato nei comuni in modo da poterli inserire nella comunità dove vivranno nei prossimi mesi. Ad oggi sul territorio, lo ricordiamo, sono 350 quelli ospitati. Allora, adesso andiamo e chiudiamo la rassegna stampa con lo sport. Dicevamo il derby, il grande derby Fano-Vis, che tra l'altro lo trasmetteremo questa sera in telecronica integrale, subito dopo il nostro telegiornale. È stato un derby straordinario, vinto dal Fano, non solo perché è stato vinto dal Fano, ma perché è stato proprio bello, anche se vogliamo alla cardiopalma, perché la Vis prima in vantaggio, poi 1-1, 2-1 per la Vis, 2-2 e alla fine la vittoria del Fano per 3-2. Sivilla, cosa dire di Sivilla? Sivilla, la ventesima meraviglia, ha fatto un gol, l'ultimo lo vedrete, strepitoso, davvero incredibile, che ha mandato in visibilio tutto lo stadio Mancini e che ieri si è presentato davvero come per le grandi occasioni. Vedrete anche una bellissima coreografia dei Panthers e non solo, ma anche quella dei tifosi del Pesaro. Alessandrini, l'allenatore del Fano, dice usciti alla distanza. Sivilla, i suoi movimenti sono sincronizzati con la nostra organizzazione di gioco. Poi ancora l'altra pagina del resto del Carlino, perché su due pagine vedete qui la canzone finale, Un giorno all'improvviso, cantata con il portiere e i tifosi e tutta la squadra. Ovviamente il portiere fa da capocoro con il megafono in mano. Qui sono praticamente letteralmente mutande perché hanno dato via le divise da gioco, le hanno lanciate ai tifosi. La Visse ci ha messo in difficoltà, però dice Sivilla, hanno deciso gli episodi. L'attaccante è questo stadio pieno, adrenalina pura. Le pagelle, le pagelle che potrete leggere sulle pagine del resto del Carlino, così come degli altri giornali, quelle del Fano, il voto più alto naturalmente spetta a Sivilla, un 9, una doppietta, 20 reti, 20 reti segnate in questa stagione, l'Euro goal che decide il derby. Ormai non ci sono più oggettivi per un giocatore che in D fa la differenza e che in D probabilmente ci starà ancora poche settimane e poi lo vedremo sicuramente in altre categorie perché insomma è un po' sprecato davvero. Sivilla 9, 10 sicuramente. Allora andiamo sulle pagine adesso del Corriere Adriatico. Il Fano è sempre una gioia, Vis nei guai, Granata vincono anche il derby con le magie di Sivilla e Gucci, Biancorossi. Ora sono penultimi, la Vis è penultima, rischia, rischia davvero grosso. I pesaresi camuffano il meno 41 in classifica, ma devono arrendersi alle prodezze degli attaccanti dell'Alma. Fabri e Labriola ci mettono grinta da rivedere il gol annullato a Martini. Cercheremo di rivederlo appunto stasera, prima della partita nel corso del telegiornale. Vediamo se riusciremo a darvi qualche indicazione in più attraverso la Moviola. Il Galeone affondò la barchetta con la palla di Pomodoro e la scenografia e la coreografia di cui vi parlavo poco fa la vedremo dagli spalti della curva, mentre la foto si riferisce ai due sindaci di Pesaro e Fano, Ricci e Seri, con al centro il patron dell'Alma, Claudio Gabellini. Non resta che vedere il messaggero. Il Fano condanna la vis, un Eurogoal di Sivilla, decede un derby spettacolare, dramma bianco-rosso con una prova coraggiosa, coraggiosa, vincono tutte le rivali dirette, ora salvarsi sarà davvero un'impresa. E qui vedete l'allenatore della vis, Ceccarini, Mesto, di nuovo discreti, ma ancora una volta nessun punto. Beh, insomma, la vis Pesaro non ha giocato male ieri, non ha affatto giocato male. Alessandrini, bravi a provarci sempre. E poi, ecco, questa insomma è la cronaca che potrete leggere sulla pagina del messaggero. Bene, è tutto. La rassegna torna domani mattina alle 7.30. Grazie per averci seguito. Buona giornata domani. Grazie per aver guardato il video.